Approvata all'unanimità la mia risoluzione che mira a dotare la soprintendenza museale di personale che possa aiutare almeno per l'estate del 2021 a tenere aperti alcune testimonianze importanti della nostra bellezza, della nostra arte, della nostra cultura. Pensate a San Pietro Adoratorium, pensate a San Clemente a Casauria, nel comune di Castiglione a Casauria. Alcune convenzioni portate avanti tra la soprintendenza e il comune non sono andate a buon fine per varie difficoltà, c'è un concorso del Ministero dei Beni Culturali, 500 persone, 21 assegnate alla nostra regione che potrebbero essere utilizzate proprio per queste testimonianze. Purtroppo però il Centro per l'Impiego vuoi per la carenza di personale, vuoi per l'alto numero di domande che sono arrivate, ancora dal 20 febbraio dell'anno scorso a un anno di distanza non riesce ancora a selezionare queste persone. L'impegno del Consiglio è quello di rafforzare appunto il Centro per l'Impiego per fare in modo che queste persone vengano fuori, venga fuori questa lista e poi di venire incontro ai comuni che si vogliono fare parte dirigente per delle convenzioni con la soprintendenza museale e per tenere aperto, almeno per il 2021, queste belle testimonianze del nostro Abruzzo.